Il bilancio della valanga di questa mattina, sabato 7 aprile, è caduta nel comprensorio scistico di Pila nel comune di Grassan e di due morti e due feriti. Le ricerche sono durate diverse ore, sul posto sono intervenuti le guide tecniche di soccorso, l'unità cinofile, l'elicottero dei vigili del fuoco e tre unità ai sommozzatori, poiché la valanga è caduta nei pressi del lago di Chamolè. Difatti l'ultimo scialpinista è stato proprio recuperato dal lago. I due stati vivi sono stati trasportati all'ospedale Parini di Osta in stato di ipotermia. Ok.